Sono andata due volte a Haidiland a portare le mie amiche. Ma dai, allora sei di casa Haidiland. Non lo so, non mi ricordo, però parla di 10-15 anni fa. Allora, voglio vedere anche Haidiland, guarda che bel castello. Bellissimo, per meno così il castello di Dracula. Sì, un po' di sguardo, non come siete. Quello vero dalla leggenda è così, è rovinato. Cazzo, com'è abitare qua in culo ai lupi, davvero madamea. Bellissimo. Guarda... E' un carino. 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 Il collasso ci dice una dirigente, meno grave ma preoccupante anche la situazione in Svizzera, tanto che si inizia a pensare di alla triage. Qua l'impianto ti si trova, no? Io non lo so dell'impianto, sì, 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 è bellissimo, non faccio foto, faccio video, è bellissimo. Vabbè, tanto puoi prendere la video. Heidi, tra 400 metri svoltare a sinistra e proseguire sulla 28. Andiamo a vedere la casa di Heidi. Sì, guarda che bella. Questa è la Svizzera, amore, che mi piace. Troppo bella. Dopo che scendiamo. Sì, quando scendiamo ci fermiamo. Con la macchina di qua. Ok. Secondo me ci saranno anche altre macchine che vanno. Sì. Andiamo a vedere questa benedetta a casa di Heidi. Metti bene e chiudi. Sì, è chiuso. Qua c'è la statua. Sì. E' amassata un bimbi minchiamo sopra. Parca, miseria. Sì, è stato lì. Dai, vai, amore. Tu e Heidi. Questo è video, però, eh? No, fai foto. Sì, faccio foto dopo. Uguale come nei cartoni animati. Anche quello che ha scritto, cartoni animati. Allora, Victor, qua, beveva acqua, lui e le sue capre. Qua. Prima di salire su in montagna da Heidi. Questa fontanella. Sono anche le capre lì. Sembrano dei cani, però, eh? Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Beh, la leggenda dice che qua il nono, però, dice uncle. Almancle. Tagliava la legna in questo posto. Sì, scusate, ignoranza, ma non so cosa vuol dire almancle. Cosa vuol dire almancle? Eh? Almancle. Uncle è zio. Sì, questo lo so. Vabbè. Guarderemo su Google Translate. Beh, questo passaggio dalla storiera di Heidi non me lo ricordo. Dove guardava lei. Da questi sassi. The Eagle. Non ricordo. Però adesso è tutto imboscato, non si vede un cazzo. Ecco. Vedi che fuma la pipa? Questo è, non lo so chi. Questo è Heidi. Questo è il nono che fuma la pipa, come me. Quello è Peter, no? Non è questo Peter? Questo è Peter, sì. Forse. Sì. Che bella cosa. Guardate. Parate un po' inglese, eh? Guardate un po' inglese. Non è questo? Non è questo? Eh sì. Guarda. Vai. Qua? Però in piedi non sembra. attento che vengono questi cazzoni con la bici fanculo stiamo arrivando cazzo quanta gente ho lì la piccolina molto piccola ma caratteristica caratteristica perché la casa di haidi è il più bello dopo la donna caratteristica dai vediamo faccio il video da vicino dopo vero amore sì ecco la casa di haidi piena di persone lì dentro non è piccolina molto piccola ecco la casa di haidi questo prato queste montagne quella strada che scende lì in fondo la valle minchia che bella vista aveva eh haidi lì è la mia piccolina 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 c'è il vento un po' freddino devo fare la barba cazzo però ti ho detto fino dopo il lockdown lascio anche i peli se non mi lavo fino a quando ti vedo ancora non mi lavo non taglio la barba non mi sto depilando sotto le ascele neanche linguine voglio diventare il sozzone porcusior insomma stiamo scendendo dal highland iscriviti al canale